bitcoin etf black rock lancia la bomba in questo periodo di bear market pensare a qualcosa di positivo è difficile eppure questa notizia sembrerebbe poter cambiare veramente le cose ma è veramente così e soprattutto che cosa porterebbe un etf su bitcoin all'interno dei mercati finanziari scopriamolo insieme in questo video ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video la sec deve fare una scelta black rock uno dei più grandi fondi istituzionali anzi il più grande fondo istituzionale presente nel mondo ha fatto una richiesta ovvero un etf di bitcoin parliamoci chiaramente già in precedenza in molti avevano richiesto un etf di bitcoin eppure questo era sempre stato rifiutato ora la sec però si trova davanti un ente molto importante di conseguenza la sua risposta è decisamente decisamente più pesante andiamo però insieme a vedere che cosa accadrebbe se la sec decidesse di accettare questo etf e di cambiamenti nel mondo cripto e anche nel mondo finanziario tradizionale prima però di approfondire questo discorso vi chiedo gentilmente di far conoscere questo video e quindi di condividerlo in modo da far crescere il canale questo perché il canale non sta crescendo poi così tanto anzi la fatica dietro il canale sicuramente non è corrisposta a livello di numeri di follower che ci sono di questo non mi lamento sicuramente so che devo migliorare ed il canale stesso con me ovviamente deve migliorare per quanto riguarda molti aspetti vi chiedo però comunque di far lavorare l'algoritmo youtube di mettere un bel like di attivare la campanella e di iscrivervi se non siete iscritti oltre a questo solita cosa mi raccomando fatela iscrivetevi al canale in cripto vi sarà sicuramente utile per il trading e per moltissime altre info sul mondo delle crisi ora andiamo a vedere i cambiamenti principali che ci sarebbero se questo etf di bitcoin venisse accettato il primo cambiamento sarebbe sicuramente il riconoscimento di bitcoin come asset vero e proprio finanziario una cosa che in questo momento non è anzi per molti è sicuramente ancora un asset da cui stare molto lontano questo perché i media ancora lo descrivono come una scam come una truffa come qualcosa ovviamente non regolamentarizzato però allo stesso tempo da doverci stare assolutamente lontani questo perché se le istituzioni finanziarie più importanti decidessero di investirci beh capite bene come i media di conseguenza cambierebbero assolutamente idea questo perché i media sono pilotati ovviamente da istituzioni importanti e se le istituzioni importanti decidessero di accettare bitcoin come asset vero e proprio la narrativa cambierebbe completamente passiamo quindi al punto numero due un altro punto collegato a questo è molto molto importante ovvero quello del volume all'interno del mercato di bitcoin bene il volume all'interno del mercato di bitcoin cambierebbe estremamente non simultaneamente ovvero se la citazione fosse domani a mio modo di vedere non è che in una settimana il prezzo di bitcoin schizzerebbe sicuramente avrebbe un rialzo importante ma non raggiungerebbe subito il livello che poi però raggiungerebbe sicuramente in futuro questo perché le istituzioni hanno un ritmo abbastanza lento nel far crescere un asset soprattutto nel far investire anche i loro clienti così possiamo chiamarli all'interno di questo nuovo tipo di investimento per cui il prezzo sicuramente crescerebbe moltissimo e allo stesso tempo il market cap all'interno del mercato crescerebbe tanto questo perché investitori istituzionali e anche tradizionali si fionderebbero all'interno di questo nuovo investimento avendo una sicurezza molto più grande rispetto a prima e non dovendo detenere bitcoin fisici ma avendo quindi una certificazione regolare di avere dei bitcoin e non avere la responsabilità che questi bitcoin potrebbero essere persi da un giorno all'altro nella nostra chiavetta ledger o nel nostro wallet privato online o essere truffati in qualsiasi altra maniera il terzo punto è sicuramente che la volatilità cambierebbe dopo un primo anno magari volatile dato dall'entrata di nuovi investitori e quindi sicuramente volatile verso l'alto e magari anche di qualche ribasso per qualche speculazione simultanea come succede magari in questi momenti il prezzo diventerebbe meno volatile questo perché molto più capitale andrebbe all'interno molti più investitori investirebbero per lungo periodo e di conseguenza oltre a crescere il prezzo crescerebbe anche non la volatilità ma il contrario la stabilità di bitcoin stessa passiamo al quarto punto che sicuramente avverrebbe ovvero una regolamentarizzazione sul mercato intero delle criptovalute e quindi a risentirne non sarebbe solo bitcoin stesso ma anche l'intero mercato sicuramente verrebbero messi dei regolamenti per far sì che queste grossi istituzioni non sfruttino la sua iniziale volatilità e soprattutto anche per le persone comuni per dare così una sorta di fiducia e tranquillità verrebbero messe magari un rimborso sotto un tot di perdita o qualsiasi cosa in questo modo le persone investirebbero in questo nuovo asset molto più tranquillamente e magari senza aver tutta questa ansia scatenata da un passato di volatilità di alti e bassi il punto numero 5 è sicuramente la creazione di altri etfi e questo avrebbe molto dopo riguardante il mondo delle criptovalute e magari di un settore intero ad esempio un etf specializzato sul settore cripto della defy su tutte quelle monete quei token che utilizzano la defy un etf magari basato sull'intelligenza artificiale cripto e molti altri etf riguardanti settori ben definiti sempre all'interno del mondo cripto questo sarebbe molto molto importante e sicuramente sarebbe una delle ultime cose che potrebbe accadere quando ormai diventerebbe veramente una cosa di tutti i giorni avere un bitcoin o di una criptovaluta e sarebbe una normalità questo avverrà sicuramente quando in un futuro penso abbastanza lontano purtroppo avere delle criptovalute nel proprio wallet non sarà una normalità ma sarà un'eccezione chi non le avrà l'ultimo punto ovviamente quello più importante il settimo è quello dell'adozione di massa facendo sì che l'etf di bitcoin venisse regolamentarizzato qualsiasi investitore retail istituzionale ma anche soltanto investitori casuali ovvero di passaggio che vogliono soltanto investire quasi come una scommessa senza conoscere l'asset all'interno di bitcoin solo vedendo il suo passato e rassicurati dalle istituzioni dalla loro entrata delle loro regolamentarizzazioni beh entrerebbero sicuramente il valore di un satoshi diventerebbe veramente diverso rispetto al valore di oggi pensando poi che la sua capitalizzazione come avevo detto in precedenza si alzerebbe moltissimo e in questo momento è comunque molto bassa anche se aveva raggiunto i valori discreti durante l'ultima bull run bene secondo me sicuramente in futuro ci sarà una regolamentarizzazione su questo etf il mio pensiero generale è che questo etf spero si faccia ma non si farà ho i miei dubbi come sempre quando c'era sec soprattutto in questo momento che vuole dare battaglia alle cripto e in questo momento in cui in un futuro non troppo lontano usciranno le valute digitali dei paesi come ad esempio l'euro digitale o lo yuan digitale che credo sia già uscito ed anche magari una moneta digitale americana che sicuramente non manca molto neanche a questo per la sec sapere che gli investitori possano avere un'altra opzione come investimento non controllata da loro sicuramente non è una cosa che vogliono di conseguenza non accetteranno queste etf questo è quello che penso poi però c'è di mezzo blackrock che è il più grande fondo istituzionario mondiale non stiamo parlando di pizza e fighi come si suol dire quindi la situazione è tra virgolette in stallo a mio modo di vedere quasi un 50 e 50 di probabilità sarà un gran cambiamento se verrà accettato come detto e prima o poi verrà accettato non so se questa volta ma in un futuro ne sono sicuro quasi al 100 per cento ovviamente mio modo di vedere le cose perché credo nel mondo cripto sarà sicuramente accettato per cui investire in questo momento quando bitcoin è in circa 25 26 mila dollari 24 magari scenderà ancora a 20 chi lo sa magari salirà a 30 e a noi sembra una cifra veramente enorme è comunque a mio modo di vedere una cifra giusta ed ottima per investirci nel lungo periodo e per un futuro non troppo lontano ma di medio termine ora queste sono le mie idee non sono consigli finanziari scrivete qui sotto nei commenti secondo voi se questo etf verrà accettato e secondo voi se ci sono altri cambiamenti che porterà all'interno del mondo cripto un grazie per la visione come sempre da michele un saluto a tutti quanti un ciao grandissimo ciao ciao